E' iniziata la partita tra Hachrim e Hachrim E' iniziata la partita tra Hachrim e Hachrim E' iniziata la partita tra Hachrim e Hachrim e Hachrim E' iniziata la partita tra Hachrim e Hachrim e Hachrim E' iniziata la partita tra Hachrim e Hachrim e Hachrim e poi quella combina grossa sempre lui De Nobili 3 a 0 di Rivetti 3 a 0 la Taticosofia il tuo compagno non ci riesce, parte Rivetti contro la Taticosofia Rivetti, Rivetti, mette a terra De Nobili 4 a 0 di Rivetti mamma mia 4 a 0 Taticosofia 4 a 0 Taticosofia 4 a 0 Taticosofia 4 a 0 Taticosofia Tirimmolo, Maglillo Biancione il tiro Marsiglia con i piedi Gianna, Gianna Gianna, Gianna Mosanghini Maresca, mette a fallo vallantare la Taticosofia Russo, Sombraeo, Suagliello Ancora Russo la mette al centro De Nobili la battezza fuori la battezza fuori finisce che il primo tempo 4 a 0 il secondo tempo tra Taticosofia e a Cilindro 4 a 0 la Taticosofia Rivetti il tiro è la rete di Russo il 5 a 0 ancora un errore dei partiti di De Nobili di De Nobili vedete trovate il pallone buonissime per Giaccerimolo Bilancione alla battuta in barriera per il portiere Marsiglia Bilancione parte il tiro è la rete di Bilancione 5 a 1 per la Taticosofia Bilancione più dell'Aquila in maniera ottimale 5 a 2 di Carofalo Garofalo la battuta sempre due in barriera per Marsiglia Garofalo 5 a 3 la riapre la partita tra Acidim e Taticosofia contro la riviera del gollo Bilancione Ranieri Garofalo Garofalo il tiro di Garofalo 5 a 4 la riaprono e ci credono 5 a 0 Russo Rivetti Rivetti si vede che parla per Giuliani e la rete del 6 a 4 di Giuliani De Nobili De Nobili Di Palo poi Marsiglia poi Maresca allontana dalla minaccia cerca e trova Rivetti Sì è il 7 a 4 della Taticosofia chiude qui la partita 7 a 4 prima Giuliani e poi Rivetti il tiro il tiro è la rete di Garofalo 7 a 5 mi dice qui la partita eccoci qua siamo con Russo e Rivetti migliore in campo il match vinto dall'Atletico Sofia per 7 a 5 partiamo da Rivetti sei oggi il bomber di squadra Rivetti oggi abbiamo fatto questi 5 gol molto bene mi sono piaciuti grazie alla squadra mi è piaciuto molto bene oggi il portiere ha salvato molte palle la giunta era molto forte sinceramente la temevamo però in campo abbiamo dato più più schema di gioco più contributi passiamo a Russo Russo per te tra l'altro lavoro sporco e tanti assist per i tuoi compagni è stata un'ottima partita siamo partiti con la testa di vincere anche perché erano a 5 costi mi abbiamo detto dobbiamo avvicinare contro il primo per vedere non arriviamo in classe ce l'avete fatta ringraziamo Russo e Rivetti migliore in campo bravo grazie